Ho dei capelli oceani E what are you a tutti ciurma e benvenuti da giocare in questo brevissimo video Non fate caso ai miei capelli perché fanno veramente schifo A parte tutto, a parte il mio stato pessimo ragazzi Mi vedete in queste condizioni ubriose perché pure stamattina ovviamente ho avuto da fare diverse cose Però vabbè piccola parentesi Che bello oddio, cioè da un lato si da un lato no Sono tornata ragazzi qui in Spagna Sono tornata anche qui sul canale dopo più di un mese di assenza Che non è poco assolutamente E volevo aprire una piccola parentesi su quello che potrebbe succedere Ma anche potrebbe non succedere ragazzi Nel corso di questo periodo futuro sul canale ragazzi Riguardo i video Che cosa voglio dire? Adesso mi spiego Ovviamente riprenderò a fare video normalmente Tutti i santi giorni Parliamo ovviamente di gameplay E ogni tanto anche di altri tipi di video Ah, piccola parentesi Ho appunto ragazzi un video sorpresa Speciale Che penso vi piacerà Che appunto dovrò ancora editare e caricare Più i due video unboxing Di quando mi avete inviato delle cose insomma in Italia Per cui questi aspettatevi In ogni caso a parte questo riprenderò appunto A portare gameplay tutti i giorni Effettivamente dovrei continuare la serie su Devil Within 2 E su Spider-Man Quest'ultima ragazzi però ci sto pensando un pochino Effettivamente a continuarla Per sia la questione della lingua Che comunque l'ha penalizzata tantissimo Sia per il fatto che effettivamente non è poi così tanto seguita Per cui su questo ragazzi mi dovete dare conferma voi Io comunque ci sto pensando In ogni caso dobbiamo ancora continuare Life is Strange 2 Di Walking Dead Che fortunatamente verrà concluso Per cui su questo ci penserò Senza dubbio Dopodiché di regola ragazzi Le live del giovedì sera Dovrebbero riprendere In ogni caso su questo ragazzi ci teniamo sempre aggiornati sui social Per questo vi invito sempre a seguirmi sui social ragazzi Che trovate in descrizione Perché appunto non è proprio detto al 100% Che ogni giovedì sera farò una live Per cui comunque ci teniamo aggiornati sui social Per questo motivo Dopodiché ragazzi che cosa volevo dire Riguardo il periodo futuro sul canale eccetera Non vi spaventate Perché non è che sto dicendo Che non faccio più video O cose del genere Però ragazzi Voi sapete benissimo Che Rodrigo Ritorneremo Cioè andremo Perché ritorneremo effettivamente insieme Non ci abbiamo mai vissuto in Italia Andremo a vivere definitivamente in Italia L'anno prossimo Incrociando le dita ragazzi Se tutto va bene E tutto va secondo quello che stiamo cercando di calcolare Probabilmente questo accadrà i primi mesi dell'anno Quindi non gennaio non febbraio Però se tutto va bene ragazzi Va per il meglio Probabilmente già forse a marzo potrebbe avvenire questo grande passo Io ve lo anticipo Perché appunto vi dovevo spiegare questa cosa ragazzi Che probabilmente appunto in questo periodo Comunque dicembre, gennaio, febbraio eccetera Potremmo essere molto impegnati A risolvere tante questioni burocratiche Che ovviamente potrete immaginare Che appunto vanno assolutamente risolte Prima di andarcene da qui Quindi questo volevo dirvi ragazzi Che siccome io comunque registro e dedito i miei video di mattina Quando Rodrigo va al lavoro Se dovesse esserci qualche giorno ragazzi Che siamo veramente troppo impegnati O comunque ho anche io delle cose da sbrigare Riguardo queste questioni eccetera Potrebbe Io ovviamente cercherò di non farlo succedere ragazzi Però potrebbe succedere che magari qualche giorno così sporadico Potrei non riuscire a pubblicare alcun video Per cui io comunque ci tenevo ad avvisarvi Perché sapete che di solito io pubblico praticamente sempre E quindi se dovesse succedere Che magari un giorno O un altro Durante questi mesi Non dovessi riuscire a pubblicare Ragazzi Sapete adesso il perché Quindi si tratta di impegni Che ovviamente Attualmente hanno l'assoluta priorità Questo non è per andare a sminuire Il mio canale O voi Assolutamente Però sapete benissimo quanto è importante per noi questa cosa Per cui se dovesse succedere Ragazzi Vi ripeto cercherò di non farlo succedere Che qualche giorno Non dovessi riuscire A pubblicare video Vi prego di perdonarmi Ma evidentemente Ho avuto Degli altri impegni Da sbrigare Di assoluta importanza Per cui io comunque Vi ringrazio Già in anticipo Per la vostra immensa comprensione Che sicuramente Mi mostrerete Come fate sempre Ci tengo ancora a ringraziare Tutti quelli che Mi hanno mandato qualcosina In questo mese Che sono state in Italia In ogni caso poi Guarderete voi i video E che dire Niente lì che ragazzi Si freme Ci si freme Ecco io e Rodrigo Fremiamo Perché Sarà un periodo Penso abbastanza Non dico complicato Perché ci sono cose Sicuramente molto più complicate Ragazzi Però Potete immaginare Che cosa significa Dover preparare Uno spostamento del genere Da una nazione Ad un'altra Che per fortuna Non sono manco così lontane Perché sennò Sarebbe stato veramente Un problema Quindi Potete immaginare ragazzi Che questo periodo Dicembre Genio Febbraio Sarà un periodo Veramente Molto pieno Per noi Vi prego Di mandarci Tutta la vostra Energia positiva Perché Veramente Noi speriamo Ragazzi Con tutto il cuore Di poter riuscire Già a marzo A fare questo Grande viaggio Per cui Incrociate le vita Per noi Mandateci Tutta la vostra Energia positiva Noi ve ne saremo Ovviamente Eternamente grati Come vi sono sempre Eternamente grata Ragazzi Per la vostra Costante presenza Perché ci siete Sempre Nonostante io sia stata Comunque assente Da youtube Ci siete Veramente sempre Anche sui social Vi fate sentire Grazie comunque Veramente di cuore Per tutto Quindi che altro dire Ragazzi Ritornerò comunque Con i video Di sempre A partire da lunedì Probabilmente lunedì Non sarà un gameplay Ma sarà un altro Di questi video Che vi dicevo In ogni caso Si riprende L'attività di sempre Dalla settimana prossima Quindi grazie veramente di cuore A tutti i ragazzi Io vi mando Un saluto Un abbraccione Un bacione Giganti Ciao ragazzi E un budosha a tutti Non ce lo scordiamo Ciao